Ragazzi secondo voi ho 800.000 euro, dovrei spenderne 400.000 per portare la mia casa e proprietario a livello 2 Grazie a quello potrei acquistare un terreno più grande di questo e poter metterci altre serre e superare questo rigido inverno Tutto questo è live su Twitch, mi raccomando il link è in descrizione, venite numerosi a trovarmi e correte Correte perché io già sto acquistando il nuovo terreno, mi raccomando Ah, condividi e lascia like